Dopo il manifestato dissesto finanziario dichiarato dal Comune di Taurianova, l'altro ieri si sono insediati tre commissari inviati dalla Prefettura con il compito di gestire i conti dell'ente e tentare di risanare le deficitarie casse del Comune di Taurianova. Saranno Salvatore Gullì, dirigente di seconda fascia, Giuseppe Antonio Santoro, funzionario informatico e Caterina Saffioti, segretario comunale in Quescenza, che avranno l'arduo compito di amministrare la gestione e l'indebitamento pregresso, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'estinzione dei debiti dell'ente. Dopo mesi di attesa nei quali c'è stata una vibrante disputa politica tra maggioranza e opposizione e il consueto rimbalzo di responsabilità tra le parti, la Commissione proposta dal Ministero dell'Interno dovrà stabilire le linee di indirizzo da seguire per condurre la città fuori dal pantano finanziario. Una situazione è venutasi a creare a causa dell'ingolfamento della macchina burocratica in seguito agli scioglimenti dell'ente per infiltrazioni mafiose, due di seguito, spese di bilancio esose, sperpero di fondi pubblici di un ventennio di politica locale, un insieme di fattori che hanno provocato un buco economico nelle casse comunali. Gestioni comunali non corrette, debiti pregressi, operazioni finanziarie allegre sono state le accuse mosse dalla maggioranza di centro-sinistra ai colleghi seduti tra i banchi dell'opposizione, dove ad essere preso principalmente di mira è stato l'ex sindaco Roy Biasi, accuse rinviate al mittente dallo stesso. In attesa della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione ha dato avvio alla procedura di contabilizzazione delle passività dell'ente, consentendo ai creditori di battere cassa. Tutti i soggetti che ritengono di avere diritto dovranno presentare, entro il termine perentorio di 60 giorni, l'oggetto del debito, l'epoca in cui è sorto ogni elemento utile ai fini dell'accertamento del credito. Primi passi per Gullì, Santoro e Saffioti nel lungo percorso che conduce al ripristino della solidità economica dell'ente.